Un protocollo d'intesa che in sostanza blinderà l'assunzione dei primi 30 ricercatori della Intex nell'ambito della spesa economy. Poi, a mano a mano che partiranno le varie commesse, saranno riassorbiti anche altri dipendenti. Si parte da qui per dare speranza ai lavoratori dell'ex centro di ricerca delle telecomunicazioni che aspettano da oltre un anno risposte sulla loro riassunzione. Sono 60 ricercatori, tutti oltre 50 anni e tutti con elevati professionalità nel campo delle telecomunicazioni che senza l'opportunità della spesa economy non avrebbero forse altre strade occupazionali da percorrere. Diversi bandi collegati alla strategia nazionale della spesa economy per la quale l'Abruzzo ha investito 10 milioni di euro. Il primo si è concluso a settembre e il governo si è esaminando la compagine delle otto imprese che ha partecipato al bando. La spesa economy si concretizzerà concretamente quando il bando sarà stato eseguito e si sarà capito chi ha vinto e noi ci auguriamo che sia la compagine a cui partecipano le nostre aziende. Oggi si è firmato il protocollo d'intesa tra Forender24, che è la NUCO, la nuova società che ha intenzione di assumere i ricercatori, e Thales Alenia Space, la quale si impegna, qualora vincesse il bando, a fornire all'azienda quella battente di attività che consente di assumere, di coprire le assunzioni di una metà circa di quei lavoratori. Poi qui erano presenti anche altri, oggi c'era presente sia Telespazio, sia Leonardo, sia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i quali a loro volta hanno ulteriori altre attività che corrisponderanno alla medesima azienda, e quindi col complesso di queste attività si può completare la copertura per l'assunzione di tutti quei lavoratori, naturalmente per l'avvio di un processo che dopo dovrà farsi valere i suoi mercati. Qualora lo vinca, la legge gli impone di riversare in Abruzzo una parte di attività, visto che noi la cofinanziamo, questo lo dice la legge, e la legge gli chiede di coinvolgere il sistema di piccole imprese o di nuove imprese, tutto scritto da legge. Ecco, le imprese, la nuova impresa che noi gli chiediamo di valorizzare è questa.